buongiorno a tutti oggi vedremo come poter richiedere le cattedre orario esterne o nello stesso comune o su comuni diversi o anche chiedere per chi si trova in una situazione di part time solamente uno spezzone orario nella domanda dopo aver compilato la sezione f la sezione g1 e la sezione di eventualmente bisognerà andare nella sezione g2 dove alla voce appunto 24 richiesta cattedra particolare su più scuole si potrà optare tra cattedra scuole di uno stesso comune e dunque più di una scuola dunque due o anche tre scuole nello stesso comune oppure anche cattedra scuole di comuni diversi cliccando qui si avranno al massimo cattedre orario esterne ma su scuole dello stesso comune oppure cliccando in questo modo avremo sia sulle scuole dello stesso comune dunque cattedre orario esterne su scuole dello stesso comune o anche su comuni differenti per quanto riguarda il part time potremo dichiarare che il docente si trova per esempio in uno stato di part time per un certo numero di ore per esempio 12 in questo modo facendo poi il salva noi avremo la possibilità e in questo modo appunto di aver richiesto cattedre orario esterne anche su comuni diversi in questo caso e oppure cattedre in part time chiaramente una cosa può anche non escludere l'altra arrivederci e grazie a tutti